Giova abbiamo un ospite grandissimo, un gran cantautore, dalla scuola scandinava, un cantautore che sta reinterpretando tutti i grandi classici del folklore, sì, della zona, annullando completamente la loro commercializzazione in essa. Praticamente quest'artista è Pier Anselmo Doncia. Non era Balegno? No, questo è quello della settimana prossima, credo. Comunque per noi Pier Anselmo Doncia, un grandissimo cantautore. Godetevelo. Grazie. Come han detto, mi piace reinterpretare i classici del cantautorato e... Niente, partirei dicendo... No alle guerre, mi fate schifo. Eravamo nel deserto, con le palle a penzolone, arrivarono gli indiani e ci tagliarono i coglione. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschiare. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschino del gilet. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschino del gilet. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschino del gilet. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle. Oh, Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschino del gilet.